Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, il Colonello Giuseppe Mazzullo, unitamente al Comandante del Nucleo Operativo, Colonello Roberto Di Costanzo, ha presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, l'edizione 2024. L'opera è stata realizzata dallo studio di designer Pini Farina, con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi. Il calendario storico 2024 è dedicato al tema ai Carabinieri e le comunità, e in particolare a figura del Carabinieri come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro Paese, come il referendum tra monarchie e repubbliche nel 1946, a quelli della vita quotidiana, come la recente alluvione in Romagna. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni piccole e grandi e i bisogni delle persone. Dalle città metropolitane sono i borghi più remoti di provincia, con i quali i Carabinieri corrispondono alle stanze di rassicurazione sociale proprio di ogni comunità. Sono il filrugge che caratterizza da sempre l'operato dell'Arma e che ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024. Oggi viene presentata a livello nazionale la 91esima edizione del calendario storico. Il calendario opera che raggiunge la tiratura di 1.200.000 copie che è dedicata ai Carabinieri e alle comunità. Ogni mese descrive una storia, sono 12 storie tutte vere che vanno dal 1943 a storie più recenti, l'ultima del maggio dell'anno scorso con l'alluvione in Emilia-Romagna e raccontano l'impegno dei Carabinieri ma soprattutto hanno un filo conduttore che è la capacità di dialogo e di ascolto svolto principalmente dai nostri reparti Carabinieri, dalle stazioni in primo luogo ma anche dai reparti speciali e che ripercorrono la funzione anche di rassicurazione sociale che viene riconosciuta ad ogni reparto dell'arma. Sono storie, opera realizzata dal punto di vista grafico dallo studio Pininfarina e storie descritte dalla penna di Massimo Gramellini.